Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Termina a Udine la partita tra Udinese e Napoli. 1-3 il risultato finale. Statistica che deve fare riflettere. Il primo tempo dell'Udinese finisce con 7 tiri, 3 in porta. Il secondo tempo dell'Udinese finisce con 7 tiri, 3 in porta. L'Udinese nel secondo tempo di fatto non è pervenuta e si è sciolta come neve al sole. E' un peccato, perché nel primo tempo nonostante un super Neres, l'Udinese aveva difeso bene, aveva retto bene e poi aveva trovato il gol su quel episodio, il rigore. Era stato bravo Meret a parare il tiro di Toven, che avrebbe potuto calciarlo meglio. Poi riesce a trasformare, a mettere il pallone in rete sulla ribattuta, però nel secondo tempo tutto quello che di buono ha fatto l'Udinese nel primo, nel secondo, non si è visto. Soprattutto ha preso delle imbucate centrali clamorose. Del primo tempo Napoli era stata brava a cercare le soluzioni sugli esterni. Io l'ho sempre detto contro un allenatore che lavora tanto con gli esterni. Nel secondo invece sono riusciti a trovare Lukaku centralmente, poi anche la sgaloppata di Anguissa per i gol di 3 a 1. Cioè quelle robe lì non devono assolutamente esistere. Difesa messa, posizionata male. Per me l'uscita di Lovric ha cambiato parecchio l'organizzazione dell'Udinese in campo. Cioè uno come Lovric in campo ti dà molta più sicurezza. Tra l'altro stava facendo una buonissima partita. Quindi questo ha sicuramente influito. Però ragazzi, ripeto, troppa facilità per il Napoli nel secondo tempo di arrivare nei pressi dell'aria. Troppa facilità di attaccare lo spazio. Ci sono stati almeno due contropiedi sprecati dal Napoli. O per il passaggio sbagliato o per il cross sbagliato. E parlo di contropiedi veramente pericolosi. Cioè che potevano essere veramente pericolosi. Quindi il Napoli avrebbe avuto di che rammaricarsi. Però l'atteggiamento nel secondo tempo è stato assolutamente quello che ci si attendeva da Napoli in questa partita dall'inizio. Cioè un Atalanta che vince come ha vinto a Cagliari ti deve caricare. Tu devi scendere in campo con la voglia di veramente di spaccare tutto. E questa voglia qui secondo me si è vista nel secondo tempo. Conte penso li abbia caricati a dovere negli spogliatoi perché sono entrati in campo con un piglio diverso. Una voglia e un'aggressività diversa. Anche come andavano a recuperare i palloni. Secondo me proprio c'è un Napoli nel primo tempo che è una cosa. Napoli nel secondo che è un'altra. Proprio l'atteggiamento è stato diverso. E si è visto. Poi per carità ragazzi ci vuole l'episodio. Va bene. Neres che calcia malissimo. Ci abbatta praticamente. E Lautaro Giannetti che se la butta dentro. Però. Quando attacchi così tanto. Comunque sia. Può assolutamente succedere. E io vi dirò di più. Io più volte vi ho detto che non mi piace come gioca il Napoli. Più volte anche nell'ultimo video. Ho ripetuto che secondo me il Napoli potrebbe fare. E dovrebbe fare molto di più. Che la vedo come una squadra compatta. Una squadra solida. Infatti comunque è una squadra che prende pochi gol. Però non mi piace la sua maniera di attaccare. Non mi piace il pacchetto offensivo. Perché secondo me potrebbero fare molto di più. Invece spesso volentieri si affidano a giocati individuali. Cosa che è successa secondo me nel primo tempo. E non nel secondo. Nel secondo il Napoli ha giocato più di squadra. E per questo credo che questa sia stata la miglior partita del Napoli nella stagione. Per atteggiamento e proprio per quello che si è visto in campo. E se non è la migliore per me è una delle migliori. Senza dubbio. Ed è una risposta importante anche nei confronti della Dea. Perché comunque sia il distacco resta invariato. E il Napoli resta lì addosso. Il Napoli doveva assolutamente rispondere ragazzi. Perché oggi comunque sia la pressione dopo la vittoria dell'Atalanta ce l'aveva la squadra di Conte. E doveva rimanere lì sul pezzo. Da Ludinese mi sarei aspettato qualcosa in più. Ripeto nel secondo tempo. Nel primo bene ma nel secondo è veramente crollata. Ma è crollata proprio ogni minuto che passava. Era sempre peggio. Era diventato di fatto un assedio del Napoli. Cioè il Napoli era... Riusciva a recuperare il pallone ovunque. Ed era ovunque dei giocatori del Napoli. Veramente vogliosi, rabbiosi. E invece i giocatori dell'Udinese che piano piano si facciano sempre più piccoli. Mentre quelli del Napoli si facciano sempre più grandi. Ecco mettiamola così. Boh detto ciò signori complimenti al Napoli perché è una vittoria importante. È su un campo difficile. Vedremo adesso cosa farà la mia Juve. Speriamo di riuscire a battere almeno il Venezia. E quindi io vi rimando a più tardi. Vi mando un forte abbraccio. Iscrivetevi al canale. Vi fondete il verbo. Se avete piacere che ancora non l'avete fatto. E volete passare sul mio canale TikTok. Troverete un po' di video della partita contro Manchester City. Video interessanti. Un forte abbraccio. Ciao.